Martedì 18 dicembre sul Sole 24 Ore è uscito un articolo di Fabio Masini e mio sulla riforma dell'Eurozona. Era un tentativo di continuare il dibattito con Minenna e altri economisti italiani che hanno fatto delle proposte di riforma dell'Eurozona, il cui obiettivo fondamentale è arrivare a una condivisione europea dei debiti pubblici nazionali. Fabio Masini e io pensiamo che indipendentemente dall'utilità che potrebbe avere una tale soluzione, questa è politicamente impraticabile in questo momento in Europa, ma che il nodo fondamentale per completare l'Unione Economica Monetaria sia in realtà un altro, cioè come rendere sostenibili i debiti pubblici nazionali, ovvero come assicurare la crescita in tutta Europa. A tal fine il nodo fondamentale è la creazione di risorse proprie europee, cioè di una capacità fiscale e di prestito europeo in grado di garantire un livello di investimenti in ricerca, innovazione, infrastrutture in grado di assicurare un tasso di crescita adeguato, sostenuto per garantire un'occupazione forte in Europa, il modello sociale europeo la sua tenuta, una convergenza economica e sociale tra gli stati membri. È un po' il ritorno a un'idea di Tommaso Padoa Schioppa che nella divisione delle competenze il controllo dei conti spettava agli stati membri e la crescita all'Europa, perché i soldi investiti a livello europeo hanno un maggior moltiplicatore, hanno una maggiore efficienza, economia di scala e quindi producono di più. Abbiamo avuto la riprova col piano Juncker che è stato un grande volano. In praticamente tre anni e mezzo il piano Juncker ha mobilitato oltre 50 miliardi di investimenti in Italia, molto più di quello che è riuscito a fare il governo nazionale. Ecco quindi che affidare più risorse attraverso capacità fiscali di prestito all'Europa per la crescita è garanzia di successo rispetto a ampliare piuttosto i cordoni della borsa a livello nazionale per stati che tendono a mettere le risorse più sulla spesa corrente che sugli investimenti e che pagherebbero eventuali deficit con costi di indebitamento molto più alti che li porterebbero a una situazione peggiore di quella di partenza. Quindi la riforma fondamentale secondo noi dell'Eurozona riguarda la creazione di una capacità fiscale e di prestito dell'Eurozona ed è qui il nodo fondamentale. È interessante che anche un progetto di Piketty, il grande economista francese e molti altri intellettuali europei vada in questa direzione. È questo il punto fondamentale sul tappeto per la riforma dell'Eurozona.